Musica Buongiorno e ben ritrovati in diretta con le notizie del TG2000 di Mezzogiorno. Nessuna lacrima dei bimbi va perduta, così Papa Francesco poco fa nella prima udienza del mercoledì dopo la Pasqua dedicata alle sofferenze dei bambini e ai loro diritti calpestati. I bambini non devono pagare per gli errori degli adulti, ha detto Francesco. Il servizio di Luigi Ferraiolo. I bambini sono il frutto più bello della benedizione del Creatore. Così Papa Francesco ha definito i nostri figli nella catechesi del mercoledì in Albis, completando la riflessione sui bambini avviata già nelle scorse settimane, parlando di famiglia. Tanti bambini, fin dall'inizio, sono rifutati, abbandonati, derubati dalla loro infanzia e del loro futuro. Qualcuno ossa dire, quasi per giustificarsi, che è stato un errore farli venire al mondo. Questo è vergognoso. Non scarichiamo sui bambini le nostre colpe, per favore. I bambini non sono mai un errore. Il Pontefice ha ricordato che troppo spesso i bambini scontano gli errori degli adulti. A nulla servono le solenni dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del bambino, se coloro che hanno il compito di governare e di educare non lo fanno. Ogni bambino è marginato, è un grido che sale a Dio e che accusa il sistema che noi adulti abbiamo costruito. Ma nessuno di questi bambini è dimenticato dal padre che è nei cieli. Nessuna delle loro lacrime va perduta. Come neppure va perduta la nostra responsabilità, la responsabilità sociale delle persone, di ognuno di noi e dei paesi. Il Pontefice ha concluso ricordando che i genitori che adottano i bambini abbandonati, ma tutti i genitori in genere, non dovrebbero essere lasciati soli. Con i bambini non si scherzano. Pensate che cosa sarebbe una società che decidesse una volta per tutte di stabilire questo principio. È vero che non siamo perfetti e che facciamo molti errori, Ma quando si tratta dei bambini che vengano al mondo, nessun sacrificio degli adulti sarà giudicato troppo costoso o troppo grande, pur di evitare che un bambino pensi di essere uno sbaglio, di non valere niente e di essere abbandonato alle ferite della vita e alla prepotenza degli uomini. Che bella sarebbe una società così. Io dico che a questa società molto sarebbe perdonato dai suoi innumerevoli errori. Molto davvero. E a proposito delle sofferenze dei bambini, sono più di 3.000. Secondo l'UNICEF, i bimbi intrappolati nel campo profughi di Yarmouk, a sud di Damasco. Yarmouk è una nuova serebrenizza, denunciano le organizzazioni umanitarie. Il campo è assediato dall'ISIS da due anni. In 18.000 sono senza acqua, né cibo, né medicine. Testimonianze riferiscono l'uccisione di circa 1.000 persone, corpi oltraggiati e atrocità contro civili inermi. Difficile però capire cosa stia accadendo in quello che più che un campo è un vero e proprio quartiere stretto, tra i bombardamenti dei fedeli di Assad e i combattimenti tra l'ISIS e le fazioni palestinesi. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU intanto preme perché sia garantito l'accesso alle organizzazioni umanitarie per la consegna di aiuti. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Un video inchioda un poliziotto mentre spara alla schiena di un uomo afroamericano che sta scappando, ma non sa che qualcuno sta filmando tutto. In molti hanno elogiato il coraggio del testimone, ancora anonimo, che ha ripreso la scena con il cellulare a Charleston. Una scintilla che rischia di accendere nuove tensioni. Silvio Vitelli. Ci risiamo. Dopo Michael Brown e Eric Garner, per citare solo i due casi più famosi tra i molteplici omicidi perpetrati dalla polizia statunitense negli ultimi mesi, questa volta tocca ad un altro afroamericano. Siamo nel South Carolina e la gente che vedete in queste immagini aveva fermato la vittima, Walter Scott, 50 anni, mentre era alla guida contestandogli un fanalino rotto. Ne era scaturito un diverbio, durante il quale, stando alle dichiarazioni della gente, l'automobilista avrebbe tentato di appropriarsi del suo taser, il dissuasore elettrico, in dotazione alla polizia. L'ufficiale Slager avrebbe dunque sparato, temendo per la propria incolumità. Ma questo video, ripreso da un passante, smonta la sua versione. La vittima è apparentemente disarmata e inizia a correre dopo aver gettato qualcosa a terra. Non è chiaro se si tratti proprio del taser. Dopo gli otto colpi esplosi con la pistola in dotazione, l'agente torna verso il punto dove si è verificata la collutazione iniziale e raccoglie qualcosa da terra. Qualche istante dopo, lascia cadere un oggetto vicino al corpo di Scott. Secondo un giornale locale, Scott era stato arrestato una decina di volte, principalmente per non aver pagato il mantenimento dei figli o non essersi presentato alle udienze. Non aveva nessun episodio violento alle spalle, assicurato l'avvocato della famiglia Scott. Quando si sbaglia, si sbaglia e non importa che tu sia un cittadino comune o abbia una divisa, devi convivere con le decisioni che hai preso, ha detto il sindaco di Charleston, comunicando l'incriminazione del poliziotto ora agli arresti. Denunciato dai carabinieri e sospeso dall'Alitalia, Maurizio Foglietti, il pilota a 50 anni che alcuni giorni fa aveva sparato alcuni colpi di pistola contro le pareti delle abitazioni di sua madre, dopo una lite con il fratello per questioni di eredità. La vicenda ha destato particolare scalpore sia alla luce della tragedia aerea German Wings, sia perché Foglietti era ai comandi del volo di linea con il quale il 14 febbraio scorso il capo dello Stato, Sergio Mattarella, aveva raggiunto Palermo da Roma per la prima visita privata alla famiglia dopo la sua elezione al Quirinale. Ora Foglietti sarà sottoposto ad una nuova valutazione di idoneità da parte della nostra compagnia di bandiera. E resta libero Francesco Schettino. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha respinto la richiesta di arresto della Procura di Grosseto. Secondo i giudici non sussiste il pericolo di fuga, eppure i pubblici ministeri avevano una carta segreta tenuta molto riservata per incarcerarlo. Circa 40 telefonate ricevute da Thailandia, Stati Uniti, India e Grecia proprio nei giorni precedenti la sentenza che lo ha condannato a 16 anni e un mese per il disastro della Costa Concordia. Erano contatti finalizzati a pianificare un espatrio rapido o clandestino? Per la Procura di Grosseto sì. Si tratta di una concentrazione sospetta di chiamate estere sul telefono monitorate prima dell'11 febbraio scorso. Nonostante ciò però i giudici hanno negato l'arresto. Il piano economico del governo ora nel nostro giornale Renzi ha presentato il documento di economia e finanza evidenziando che non ci saranno tagli né imposte, ma non mancheranno le novità come ci spiega in diretta dalla redazione di Milano il nostro Marco Bergamaschi. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno. Ecco, secondo alcune anticipazioni, proprio lo stesso documento di economia e finanza annuncia un'unica tassa sulla casa che dal prossimo anno dovrebbe accorpare Imu e Tasi. Il servizio è di Augusto Cantelmi. Nessuna nuova tassa e niente tagli. Ancora crescita prevista per lo 0,7% nel 2015 nel documento di economia e finanza che sarà avverato venerdì prossimo. Il governo si impegna a non aumentare la tassazione, ma nonostante le rassicurazioni di Renzi i sindaci sono sul piede di guerra anche perché l'esecutivo sarebbe intenzionato a rimettere le mani anche al prelievo sulla casa. Non per aumentarlo rassicurano fonti di Palazzo Chigi, ma per renderlo più semplice attraverso un'imposta unica, secondo indiscrizioni, nel DEF è previsto l'accorpamento nel 2016 di Imu e Tasi. Il programma economico del governo tuttavia incontra le critiche delle opposizioni. A Renzi si dimostra un venditore di fumo, siamo ovviamente al buio oltre le slide. Bisogna eliminare le partecipate e tagliare la spesa pubblica, allora sì che non aumenteranno le tasse, però ripeto, siccome non è nel DNA della sinistra, staremo a vedere. Venerdì prossimo potremmo conoscere anche il nome del nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio in sostituzione di Graziano Del Rio diventato ministro dell'infrastrutture. Un cambiamento, questo che il premier Renzi deve forse ancora metabolizzare come dimostra questa piccola gaffa. Poi accanto adesso c'è Lupi, con tutto il tema delle inf... Lupi, adesso c'è Del Rio al posto di Lupi, vado in mente sui singoli posti del Consiglio dei Ministri. Voltiamo pagina perché tra qualche mese non sarà più necessario esporre il tagliando dell'assicurazione sul parabrezza dell'auto. Infatti le informazioni assicurative per veicoli e motoveicoli saranno associate alla targa e verificabili tramite telecamere che dovranno essere omologate per questo scopo. Questo per migliorare controlli e per limitare le frodi. Sarà praticamente impossibile così aggirare l'obbligo di legge le pesanti multe in caso di infrazioni da 800 a 3.000 euro più il sequestro del mezzo. E sono 8.000 in Italia gli evasori totali scoperti dalle fiamme gialle. Solo uno dei dati contenuti nel rapporto annorale della Guardia di Finanza per il 2014. Tutti i dettagli nel servizio di Luciano Piscaglia. E poi la linea può tornare a Roma. Oltre 8.000 evasori totali e 13.000 responsabili di reati fiscali scoperti. Beni per 4 miliardi di euro sottratti alla criminalità organizzata. 389 trafficanti di esseri umani arrestati. Sono i dati più significativi del rapporto sull'attività svolta dalla Guardia di Finanza nel corso del 2014. Attività intensa volta a combattere le frodi e l'evasione fiscale. A contrastare la criminalità organizzata e i traffici illeciti. A tutelare la spesa pubblica. Nel corso dell'anno la Guardia di Finanza ha infatti sequestrato 129 tonnellate di droga e 200 tonnellate di sigarette di contrabbando. Ma anche 290 milioni di prodotti contraffatti o pericolosi. 1.400 tonnellate e 500.000 litri di generi agroalimentari. Importante per le drammatiche conseguenze sociali del fenomeno anche la lotta al gioco d'azzardo illegale con 10.000 controlli eseguiti e irregolarità riscontrate nel 33% dei casi. Un capitolo particolarmente significativo del rapporto è quello dedicato alla tutela della spesa pubblica. Nel corso del 2014 sono state denunciate più di 3.700 persone responsabili di reati contro la pubblica amministrazione. Sono stati controllati appalti pubblici per 4,6 miliardi di euro e denunciate 933 irregolarità. Un dato è particolarmente sconfortante e inquietante. Un appalto su tre risulta truccato. Una notizia sconcertante adesso che riguarda la salute di tantissimi neonati in tutto il mondo. Secondo alcuni ricercatori americani infatti il 10% del latte materno acquistato sul web sarebbe addizionato con quello di mucca o contaminato da batteri. Ci dice tutto Cesare Cavoni. Il business non si ferma davanti a nulla, nemmeno alla salute dei bambini. È così che l'ennesima scoperta di una truffa coinvolge questa volta il latte materno. A scoprirlo i ricercatori di un ospedale statunitense. I dati sono stati pubblicati dalla rivista Pediatrics. Sul banco degli imputati il latte venduto attraverso internet che a detta degli esperti per almeno un 10% sarebbe addizionato con latte di mucca con un costo che può arrivare fino ai 100 euro al litro. Per scoprire il raggiro i ricercatori hanno acquistato dai principali siti che propongono formulazioni di latte materno oltre 100 campioni di prodotti. Il passo successivo è stato quello di analizzare il DNA fino a scoprire che vi era un'abbondante aggiunta di latte bovino. Va anche detto che non sempre il latte che si acquista sul web è taroccato ma di sicuro quello che viene fornito dalle banche gestite dagli ospedali è il migliore. Nel nostro paese ci sono ben 32 banche del latte materno proprio perché ormai in tutta Europa si stanno sviluppando queste banche del latte materno ma ovviamente è un latte ben controllato che serve soprattutto per i bambini prematuri perché si è visto che ne aumenta la sopravvivenza riducendo per esempio l'incidenza delle infezioni che sono una delle cause di mortalità neonatale molto molto frequenti. E al di là della truffa che pur è grave ciò che spaventa di più riguarda le possibili ricadute sulla salute dei bambini tant'è che in base a precedenti ricerche è stato dimostrato che nel 75% dei casi il latte conteneva contaminazioni batteriche o virali e questo latte costituisce un serio rischio per i bambini con allergie al latte vaccino. Se un piccolo con questi problemi dovesse bere latte contaminato sarebbe in pericolo sottolineano gli esperti. Per fortuna il problema riguarda per ora solo gli Stati Uniti e non il nostro paese. Torniamo a parlare come in apertura di bimbi sofferenti. Si chiama Alberto, pesa 2,7 kg e non ha subito maltrattamenti il piccolo di appena una settimana che è stato abbandonato all'interno di un sacchetto alle porte di Milano e poi recuperato da una coppia anziana. Ma per lui adesso ci sono già tantissime richieste di adozione dal capoluogo lombardo Marco Bergamaschi. Sta per fortuna bene Alberto, così lo hanno chiamato i medici. Il neonato abbandonato è trovato ieri pomeriggio in via Prealpi a Cormano periferia nord di Milano. A ritrovare il piccolo che indossava una tuta ed era protetto da una copertina di cotone lasciato in una busta di plastica al bordo di questo vicolo probabilmente nella speranza che qualcuno lo soccorresse la signora Giuseppina che coltiva l'orto nelle vicinanze. vedo un involucro in una busta pensando fosse della patumiera o robe da buttare via appoggio la bici ma in quel momento sento piangere un bimbo chiamo mio marito per farmi forza dal momento che mi sentivo un po' giù e dico Germano chiama subito il 112, il 13, quello che vuoi perché c'è un bambino per terra neonato, un bambino bellissimo. Alberto è stato subito trasportato all'ospedale Niguarda si trova per precauzione nel reparto di terapia intensiva neonatale dove è assistito da un'equip di medici, pesa 2 kg e 7 etti ed è in buone condizioni. Alberto sta bene, è un bel bambino che non ha sofferto per quanto ha passato nelle ore passate e quindi siamo soddisfatti perché sicuramente l'evoluzione è positiva della sua vita almeno qui da noi in ospedale, poi vedremo poi cosa farà. Mentre i carabinieri di Sesto San Giovanni indagano numerose le telefonate, le mail giunte alla direzione sanitaria dell'ospedale di persone che intendono adottare il piccolo sarà però il tribunale dei minori a gestire le procedure per l'affido e quindi l'adozione del bimbo. Noi ci fermiamo qui ma potete rivedere questa edizione sul nostro sito web www.tv2000.it Il telegiornale torna come di consueto alle 18.30 Grazie per aver scelto l'informazione del TG2000 A tutti voi l'augurio di una buona giornata